Ti tratterà come sua priorità se fai queste sei cose. Allora, bisogna tenere presente alcuni fatti fondamentali che se vuoi essere trattato come sua priorità devi mettere in atto delle strategie, perché altrimenti il rischio, cara, malgasciona, è che un uomo non ti tratti come priorità, ma ti tenga, diciamo, anzi, ti tenga come, ti tenga di riserva, insomma, perché teniamo presente questo, che se un uomo non, se tu con un uomo non fai, possiamo dire, non ti comporti nel modo giusto, quello ti mette come ruota di scorta. Questo è un po' un dato di fatto, un qualcosa che succede molto spesso. E allora devi mettere in atto sei strategie, sei strategie che faranno sì che si ribalterà la clessidra, che inizierà a trattarti come priorità. La prima cosa è, beh, mettilo in competizione, fagli sapere che ci sono altri maschi che sono interessati a te. Devi lasciargli, diciamo, l'illusione di essere un po' in vantaggio, perché molti magari, se sanno di perdere, restano demoralizzati. Però, come dire, essere in vantaggio, ma con l'idea che appena mollano, paf, c'è subito l'avvoltoio pronto a colpire. Quindi il messaggio che devi passare è finché fai, ti dai da fare, e mi metti al centro del tuo mondo, come dire, non ci saranno altre persone. Certo è che se tu molli, ti fai i cavoli tuoi, beh, sarà facile che entri un altro, insomma, l'avvoltoio colpisca. Ecco, quindi questo è il primo punto fondamentale, che se vuoi essere trattato, essere trattata come priorità, devi fare questo. Secondo punto, anche questo secondo me è molto importante, è, diciamo, utilizzare al meglio la sessualità. La sessualità non deve essere troppo frequente, ma deve essere intensa. E poi devi allontanarti, insomma, deve fare qualcosa ogni volta per arrivare alla sessualità, non devi fargli fare un overdose, perché altrimenti, altrimenti poi non gli interessi più. Molte donne hanno paura, eh, ma se non gli ando io, va a cercare altre parti. Beh, va a cercare altre parti, se, diciamo, se non teme che tu gli possa fare, come dire, non possa andare con qualcun altro, perché, ovviamente, non deve essere, diciamo, un qualcosa che non gli piace. Devi mettere al meglio e poi lasciargli il tempo, ogni maschio è un po' il tempo diverso, di avere il nuovo desiderio. E quando capisci che c'è desiderio, è lì che sarà più predisposto, naturalmente, a fare delle cose, ad accettare i vincoli che tu gli imponi, che possono essere di diversa natura, eh, da portarti fuori a cena, portarti da qualche parte, insomma, creare tensione. Questo è molto importante. Ed è legato al fatto del desiderio e possesso. Stimolare il desiderio a pagare, fare, diciamo, è possesso. Quindi devi saper gestire benissimo questi due parametri. Il terzo punto è mettere piccoli vincoli, perché vincoli sono delle condizioni. Ma, sì, vediamoci, dai, ci vediamo a cena, ci vediamo qua, ci vediamo là. Non essere così facilmente disponibile, no? Beh, sì, potrei esserci, però, guarda, stasera dovresti venirmi a prendere, a portarmi, fare, se no, non riesco. Insomma, mettere dei piccoli vincoli, perché più gradualmente, poi saranno crescenti, e più accetta, diciamo così, i vincoli, più si coinvolge, più si innamora. Insomma, non devi dargli dei diritti che non si è guadagnato accettando i vincoli. Questo è un punto fondamentale. Quarto punto è essere misterioso, imprevedibile. Questo stimola molte emozioni. Non essere eccessivamente gratificante, eccessivamente imprevedibile. Questo non va bene, perché non consente di dare, cioè non, fa sì che non si coinvolga fondamentalmente. Quindi imparare a essere misterioso e imprevedibile è molto importante. Direi che è la base della seduzione, fondamentalmente. Poi ovviamente impara a amplificare i suoi turbamenti. Quindi capire tra le varie opzioni quale fanno più, diciamo, generano più coinvolgimento. Prova con un po' di abbandono, un pizzico di rifiuto, un po' di disestima, un po' di senso di colpa, un po' di condizionamento, magari un po' di giudizio negativo, un po' di svergognarlo un pochettino, di comparazione fallimentare. Insomma, somministra queste tensioni, perché sono delle tensioni emozionali, attingendo a questi sette serbatoi. Quindi ho fatto anche diversi video dove puoi imparare anche a livello non verbale come fare, diciamo, come fare a fare questo fondamentalmente. Quindi magari andando un po' indietro, muovendoti, insomma, facendo delle cose che sono importanti da questo punto di vista e ti consentono di dare i giusti stimoli fondamentalmente. Quindi sono tutte cose molto, molto importanti che devi imparare, diciamo, ad utilizzare. Fondamentalmente questo è il punto fondamentale. E poi, come dire, un'altra cosa importante, se vuoi essere priorità, questo più su un piano logico e razionale, devi essere, non da subito, ma ci vorrà un po' di tempo, come dire, conquistare i suoi parenti, i suoi amici, sua madre fondamentalmente. Se la madre dirà non perderla a questa ragazza che è una ragazza d'oro, ben, tu farai un salto quantico in avanti perché tieni presente che poi molti uomini diciamo sono un po' mammoni, hanno un po' questa caratteristica di dipendere un po' dalla mamma. Ovviamente, per conoscere la mamma, devi mettere tutti i vincoli anche qua che lui arrivi a presentartela, perché magari di sua spontanea volontà, di sua iniziativa, non lo farebbe. Però, se sai mettere anche qua un vincolo, beh, ma non conosco neanche tua mamma, no, lasciamo perdere, insomma, sarebbe cosa buona e giusta. Se non ha la mamma, il papà, insomma, un fratello, insomma, comunque devi essere, come dire, devi piacere soprattutto alla mamma, fondamentalmente, o comunque, insomma, alle persone del suo entourage familiare, perché della sua cerchia familiare più stretta, perché questo ti farà acquisire tantissimi punti e diventerai sicuramente prioritaria rispetto a tanti altri. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video e ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi andare sotto il video, c'è un cuoricino che è il super grazie, clicca lì sopra e fai una piccola donazione al canale, anche solo di un euro, puoi fare una piccola donazione al canale, che è comunque molto importante, diciamo. E poi ti ricordo di seguirmi anche su Instagram, sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ufficiale, sulla pagina TikTok e su tutti i miei canali YouTube, tra cui il nuovissimo canale Liberati dai narcisisti con Massimo Terramasco, canale che ti consentirà di liberarti da questi pallosissimi narcisisti. Inoltre, sul canale ti puoi abbonare, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonata, ti vicino a tasti iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci.